Monti i carciofoni, adesso vi metto tutti in riga, però nei filmini non sta a questionare come altre volte, silenzio lei signor Carraro, detto il matador padovano, ecco qua, questo è il nostro Beppi, questo è Gigione, questo è Mauricio, questo è Giovanni e questo dalla Nocce Ivano, alla 4 Carraro, siamo a 5 Grespan, ok?